Il segno della bilancia è una luna che può far crescere un progetto, un'idea che voi avete in mente, amici della bilancia, perché è una luna al primo quarto, in quel settore del cielo che ha a che fare con le vostre ambizioni, con la voglia di raggiungere degli obiettivi, di ottenere un successo. Ecco, può arrivare questo successo, è chiaro che in questo momento voi dovete dare non il 100% ma il 101% perché c'è una situazione astrale che non vi aiuta, quindi dovete contare solamente sulle vostre forze, sulle vostre qualità, sulla vostra determinazione che è assicurata anche da questo Marte in ottima posizione.